I piatti sono sempre i piatti tipici nostri pugliesi della tradizione, le favecci cori, la cicirettria, le orecchiette al sugo, le orecchiette alle rape, abbiamo le verdure miste, un po' di tutto e il fatto della vittoria, il gusto che non si smentisce con i piatti tipici e anche la semplicità della cucina nostra e mia moglie che cucina tutti questi piatti naturalmente e di gusto, sempre nella semplicità della cucina. Il futuro del nostro locale, noi abbiamo aperto da sette anni, naturalmente teniamo a dire pure che andiamo avanti normalmente e naturalmente la vincita è un premio così che faremo dei lavori, delle cose in più per abbellire il nostro regno. Grazie.